salve a tutti amici di youtube e di facebook oggi vi presento un tipo di panni spagna per fare le cassate siciliane le cosiddette foglie per cassate siciliane ingredienti per fare le foglie di cassata sono 8 uova 188 grammi di zucchero 188 grammi di farina tipo 00 65 grammi di amido di mais cominciamo a rompere le uova sono le uova adesso passiamo 188 grammi di zucchero faccio Grazie a tutti. Sara che stai facendo? Non toccare. Va bene? Dai, continuiamo adesso. Spesiamo 188 grammi di farina. Farina tipo 00. Spesiamo adesso 65 grammi di amido di mais. Adesso untiamo le uova con lo zucchero. Spesiamo. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Aspetta 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 Stai fermati Fermati Ti sei sporcato amore E ora le te le abbiamo Amore non ti preoccupare Ti ho detto di non mettere le mani là Amore mio Adesso ti vai a pulire in bagno Ok? Che cosa fai? Aspetta amore Aspetta E allora così che papà deve fare il video E poi ti pulisca il bagno Ok Cercherò toccare niente Tieni Finiamo di incorporare Il nostro panni spagna Arrivato a questo punto Il panni spagna per fare le cassate siciliane Dobbiamo dare Una bella mescolata Energicamente Per far sì In gergo palelmitano Caso scassa Nel senso che Si smonta un po' Si comprime così l'aria Per avere Un effetto del nostro panni spagna Allo stesso tempo morbido Ma più serrato Dimmi amore Sì amore Il nostro panni spagna È pronto Adesso Devo preparare le teglie Per versarlo E infornarlo Ritagliamo la nostra carta da forno Un po' su misura Perfetto La nostra teglie è pronta Il nostro panni spagna Grazie a tutti. 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 Il nostro panno in spagna è pronto. Adesso inforniamo il panno in spagna che ha fatto Sara. Passati 15-16 minuti. Lasciamo il panno in spagna. Allora Sara. Il panno in spagna lo abbiamo fatto? Il panno in spagna lo abbiamo fatto? È pronto il panno in spagna, amore? Sì, amore? Sì, ti è piaciuto fare il panno in spagna? Sì. Saluto agli amico. di YouTube e 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 di Facebook, amore? Allora, grazie a tutti. Grazie a tutti.